Qual è il futuro degli spazi didattici e come possiamo adattarli alle nuove esigenze emersi in questi ultimi anni? A questa non facile domanda proviamo a rispondere proponendovi questo breve corso nel quale vogliamo condividere la nostra visione e soprattutto quanto imparato dalla nostra esperienza diretta sul campo Ametid. Vi faremo riflettere sugli strumenti oggi disponibili e sulle scelte possibili, magari evitando qualche errore in cui anche noi siamo incappati. Con l'emergenza pandemica rientrata abbiamo assistito ad una graduale ripresa delle attività in presenza. La sensazione diffusa è però che non sia così conveniente né tornare alle logiche consolidate precedenti, né ignorare il fatto che molte cose nel frattempo sono cambiate, anche nelle nostre abitudini. Questo vale anche e soprattutto quando parliamo di aule. Dobbiamo innanzitutto considerare che le attività in presenza stanno rapidamente evolvendo, spostandosi dalla semplice esposizione dei contenuti da parte del docente ad altre modalità di elaborazione dei contenuti come riflessione, connessione, applicazione e consolidamento. Questo significa pensare a spazi già strutturati o facilmente riconfigurabili per le attività di laboratorio o di produzione e rielaborazione dei contenuti, per la discussione a gruppi, per lo studio individuale, per la rimessa in condivisione dei lavori. Ma è anche importante cominciare a guardare le attività in aula in modo diverso perché, pur restando comunque centrali, occorre pensare a come integrarle con altre che non avvengono in quello spazio e nemmeno nello stesso momento, ma che diventano parti fondamentali del processo di apprendimento. Questi elementi, combinati tra loro, contribuiscono alla fondamentale trasformazione a cui dobbiamo tendere, da aula a spazio di apprendimento, in cui presenza fisica e digitale, strumenti tradizionali e innovativi si integrano per il migliore perseguimento dei risultati di apprendimento. Per affrontare in modo completo il tema, riprendiamo per un attimo il concetto di classe estesa, già affrontato nel MOOC Smart Learning Design. Con classe estesa non intendiamo solo l'esigenza di unire chi è in aula con chi è a distanza durante i momenti formativi, ma ci riferiamo anche a tutti i contenuti e agli strumenti che permettono di estendere l'esperienza di apprendimento al di là delle ore d'aula. La trasformazione e l'integrazione dei contenuti attraverso diversi canali non si limitano alla dimensione spaziale quindi, ma coinvolgono anche la dimensione temporale. Non tutto si svolge ed esaurisce nel singolo momento e nel luogo fisico dell'aula. L'evoluzione degli spazi didattici richiede l'adozione di tecnologie e l'organizzazione degli spazi con consapevolezza dei diversi contesti d'uso. Dobbiamo valorizzare i momenti in presenza, arricchendoli con l'integrazione di elementi digitali. In questo contesto la tecnologia assume il ruolo di un ponte che facilita l'integrazione fluida e naturale tra la presenza fisica e l'apprendimento online. Questo approccio ha già trovato espressione con le lezioni online, i webinar, i MOOC e l'utilizzo di sistemi di gestione dell'apprendimento come Moodle che favoriscono lo scambio di contenuti e comunicazioni. In conclusione, l'evoluzione degli spazi didattici ci invita a superare i confini dell'aula tradizionale e ad abbracciare il concetto di classe estesa. Dobbiamo promuovere un approccio integrato che consideri la sinergia tra presenza fisica e digitale, sfruttando strumenti tradizionali e innovativi per facilitare l'apprendimento. Questo richiede la progettazione di un ecosistema di apprendimento che, come vedremo, non può prescindere dal tenere conto di tre dimensioni fondamentali, ovvero la dimensione fisica, quella tecnologica e quella organizzativa. Ed è quello che cercheremo di capire in questo corso.